Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video Scusate veramente la faccia indecente, ma anche se mi sono lavato preparato Dopo una settimana che non mi alzavo comunque alle 6 e mezza come al solito per andare in ospedale Sono tramortito, non sono più abituato Detto ciò, come state vedendo sta diluviando e la cosa non mi piace Perché dopo una settimana che sono stato chiuso in casa, sinceramente andare a lavorare con la macchina non mi va assolutamente Però piove e sono costretto ad andare in macchina Sono veramente comunque contento di tornare in ospedale perché voglio finalmente tornare a lavorare Paradossalmente non avrei mai pensato di avere tutta questa voglia di stare al lavoro Ma come ben sapete per me stare in ospedale non è un vero e proprio lavoro Ma è sempre un momento di ispirazione, un momento per imparare Perché come sapete sono un medico in formazione, pertanto ogni occasione è buona E soprattutto questo periodo così drammatico, così purtroppo umanamente pesante da tanti punti di vista E non lo metto in dubbio, nessuno vorrebbe trovarsi in questa situazione Però capite bene dal mio lato, dal mio punto di vista anche medico è stimolante Certo, non fraintendete le mie parole Però sicuramente è un momento che mi tende a dare voglia di fare le cose Infatti oggi non so cosa troverò in ospedale, non ho la più pallida idea di cosa accade e cosa non accade Però sono sempre pronto a voler vedere nuove cose, a voler imparare E speriamo che c'è qualcosa di interessante Certo è un reparto covid quindi speriamo di avere i presidi perché io con questa mascherina proprio non posso andare da nessuna parte Detto ciò la mia integrazione nel mattino, un grammo di vitamina C, un multivitaminico, eccolo qua Due capsuli di ashwagandha e due capsuli forse di lesserina E poi mi mangio come spuntino una di queste qua di bull powders, le flap jeps che sono qualcosa di troppo buono Levo la mia macchina da una vita ragazzi assurdo, c'è un tempo veramente bruttissimo E sono fermo in macchina, adesso esco Praticamente per strada non c'era nessuno Mai visto, cioè tragitto a casa, poliglinico, 5 minuti In un momento in cui ce ne pedevo quasi 20 perché c'è sempre traffico, un po' solari Andiamo un attimo E per strada non c'è nessuno Piove, ombrello E quello dobbiamo fare Andiamo a vedere come è la situazione Sono un po' preoccupato perché vediamo tutto un po' così Adesso vediamo come è la situazione Vediamo, mi hanno dato una mascherina Utilissima, sicuramente quando il coronavirus Ma questo è l'unico presidio che noi abbiamo Non c'è niente in Italia, niente Noi che stiamo pagati con i patenti Questo coso qua, mamma mia Ovviamente la cassa d'acqua è sempre con me Cuffietta, cambio e si va al lavoro Dunque, tornato il reparto, tutto va a scatti, bellissimo Ora mi metto al lavoro, devo fare il giro E non ho idea di chi ci sia adesso Prima parte del giro completata Adesso rispetto al solito Quando normalmente facciamo il giro Noi, ovviamente abbiamo dovuto aggiungere Tutti i dati, tutte quelle domande Che normalmente non faremmo Per il sospetto coronavirus Quindi se la persona ha febbre Se ha dolori Se ha alterazioni del gusto dell'offotto Se ha dispeneo Quindi tutta questa sintomatologia correlata Adesso lo valutiamo Allora, al momento io ho finito di fare le cose Che dovevo fare di giro Diciamo che abbiamo poche pazienti ostetiche Proprio perché Non so, la gente non vuole partorire in questo periodo Boh, chi lo sa E niente Perché forse anche perché c'è il fatto Che è il reparto covid Quindi evitiamo Devo andare un attimo a vedere un po' di cose E niente Un momento casi sospetti Non ne abbiamo Però di fuori si vedono i colleghi covid Vedete? Da noi in ossedrizia Non si è mai tranquilli di un qualcosa C'è sempre un'urgenza che si sviluppa Un qualcosa di particolare Quindi adesso andiamo a valutare Ci potrebbero essere delle situazioni E quindi niente C'è una sospetta extra E quindi Extra se intende gravidanza extraterrino E quindi va valutata Oltre che ecograficamente Che ti dà degli indizi E anche eventualmente Farò una laporoscopia Dove tu vai a vedere Se effettivamente l'extra Perché come sapete L'extra si può posizionare Da tanti punti Tipicamente va nelle tube E capite bene Un bambino nella tuba La tuba non è ben preposta A tenere un bambino E quindi il rischio è che Ti si rompa la tuba O ancora di più Se vai in un'altra regione E rischia di demorragia Detro l'angolo Quindi adesso Si fa così E niente Adesso devo fare un'analisi Di una nuova paziente Che è appena arrivata Nulla di che C'è stata un'urgenza medica Tichissima Una torsionovarica Ma era talmente urgente Che non le sto riuscita A dirvelo registrando Allora Adesso sto andando sopra Devo dire Andando così In sala parto E niente È un momento Tutto tace E il problema È che quando tutto tace È sempre brutto Uffa No Non c'è lo specchio Vabbè Ciao E niente È al solito Così succede Cioè non fa niente Come avevo detto prima Per un intero pomeriggio Poi le 19 e 10 C'è una con Il tracciato non buono Perché Gemellare E ti deve lavare al cesario Quindi mi sono cambiato C'è cambiato In realtà Però vado a fare Il terzo operatore Vabbè Prendo Profigo questo pomeriggio Almeno no Che dite Vabbè Ci divertiamo un po' Allora Ho appena finito L'intervento Il cesario È durato tantissimo Perché era molto molto complicato Sto facendo Le richieste Di sanno istologico Per la placenta Proprio perché Comunque Erano 35 settimane Gemellare Con alterazioni dei flussi Varie cose Di varie ordine Di genere e natura Di conseguenza È importante appunto Fare una richiesta Di sanno istologico Per la placenta Per vedere Il perché Di queste afferrazioni C'è un qualcosa di importante Quindi adesso Valutiamo un attimo Poi vi spiego tutto Nel dettaglio Comunque Mi sono cambiato E adesso si va Si va a casa Mamma mia Che capellito pazzo Che ben ritrovo Sono stanco Eh sì Intervento difficile Tornato A casa dall'ospedale Sono tipo Le 22 e 30 Qualcosa Scusate se sono un po' Adirato Ma sono successe Alcune cose su Instagram E mi sono un po' Alterato Ma vabbè Passa Comunque Per raccontarvi un po' Quello che è successo Perché avete visto Dici di urgenza Poi ho spiegato poco In realtà Come sapete io avevo la guardia di reparto Quindi stavo sostanzialmente Facendo le cose di reparto Quindi non direttamente coinvolto in questa cosa Però poi c'è stato praticamente Mi ha chiamato una mia collega Dicendomi Ti vuoi lavare tu al cesario Sapete che io non mi tiro mai Indietro per lavarmi ad un cesario Ed è stato ovviamente Medicalmente parlando Molto interessante In quanto è stato un taglio cesario D'urgenza su una donna A pretermine Gemellare Che aveva un CTG Poco rassicurante Cioè così in termine medico Ovvero Cardiotocografia Non bellissima E comettiamola così Quindi c'è stata indicazione C'è stata posta indicazione A fare il taglio cesario Ovviamente mi sono dato come terzo operatore Non è chi Obbia fatto nulla di che Però sapete Mi piace sempre vederlo Anche perché poi sono sorte Non delle complicanze vere e proprie Però comunque Sanguinavo un po' troppo E quindi è stato bello interessante Vedere come il medico ha gestito Diciamo Oltre la gestione clinica della paziente Il perché si è arrivati A fare un taglio cesario Perché mi sono andato a leggere tutta la cartella Per capire i reali motivi Il come si è evoluta la clinica Perché questo è il bello Tu studiare E analizzare i casi clinici Che ti succedono Perché così È l'unico modo che tu puoi imparare Quando poi diventerai uno strutturato A gestire le emergenze Cioè prendere determinate decisioni Perché come Quando e perché Perché come capite In un pretermine Non è una decisione di Sì faccio il cesario Come potrebbe essere a termine Ma ci vogliono delle determinate cose E poi soprattutto Quando c'è stata Questa perdita di sangue Anche la gestione Della stessa Cioè come mantenere Il sangue freddo Come prendere le decisioni Come valutare La perdita ematica Magari quella che io dicevo Vabbè ma sono due goccioline Essere valutate in modo diverso Proprio perché C'è l'esperienza Che ti porta a dire Quelle due goccioline Adesso sono due goccioline Fra cinque minuti Sono una perdita importante di sangue Quindi sono queste le cose belle Che ti servono Anche per fermarti Perché come dico sempre Possiamo sapere Tutte le teorie del mondo Possiamo sapere fare Tutti i teori cesari del mondo Teoricamente Anche saperli fare Ma poi Nessuno ti insegnerà Come gestire Le emergenze Come gestire Quelle situazioni Inusuali Soltanto la tua esperienza clinica Quindi più esperienza fai Meglio è Per questo io ho deciso Di lavarmi Anche se Gettivamente La mia presenza Era indispensabile No Però Sempre quelle cose Ogni volta che fate un qualcosa Vi portate a casa Quel punto Che vi servirà Per la vostra carriera E quindi questo Detto ciò ragazzi Comunque Spero che questo video Sia piaciuto Mi raccomando Sostenetevi con un bel like Un commento qua sotto E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi